Il corso di laurea in tecniche sanitarie di laboratorio biomedico permette di acquisire le conoscenze teoriche e le abilità pratiche del TSLB, ovvero del tecnico sanitario di laboratorio biomedico. Questa figura professionale è l'esecutore materiale dell'analisi di un campione biologico o dell'esperimento di una ricerca scientifica, ed è responsabile della validazione tecnica di tutte le analisi. Svolge inoltre attività di laboratorio in strutture pubblico-private o in attività libero-professionali. Essere un tecnico sanitario di laboratorio biomedico permette di operare in contesti molto diversi tra loro e di sviluppare una forte propensione al lavoro di gruppo. Consente inoltre di aiutare le persone senza entrarne direttamente in contatto, caratteristica che differenzia questo corso da tutte le altre professioni sanitarie. Il nostro percorso di studi è accompagnato dall'esperienza del tirocinio che ci permette di applicare ciò che ci viene spiegato durante le lezioni universitarie. Il tirocino viene svolto in diversi laboratori. Vi è il laboratorio di biochimica clinica, il quale si occupa dello studio delle alterazioni biochimiche del nostro organismo, misurando la concentrazione di diversi componenti, sia che essi siano endogeni, come ad esempio il glucosio, il colesterolo e gli ormoni, sia che essi siano esogeni, come ad esempio i farmaci, e queste ricerche vengono eseguite nel sangue e nei liquidi biologici. Dopodiché vi è il servizio di medicina immunotrasfusionale, il quale si occupa della processazione del sangue per l'ottenimento degli emocomponenti e giustisce la trasfusione degli stessi. Successivamente troviamo il laboratorio di anatomia patologica, che permette la diagnosi di neoplasie e numerose altre malattie attraverso lo studio macroscopico e microscopico di organi tessuti e liquidi biologici. Ed infine vi è il laboratorio di microbiologia e virologia, che predispone la ricerca di microrganismi patogeni in diversi campioni biologici. Oltre a questi laboratori vi sono poi il laboratorio di ematologia, di genetica, di biologia molecolare e di tossicologia. Le sedi del tirocinio sono l'ospedale di Circola a Varese, via Torino Rossi a Varese, l'ospedale di Luine di Cittiglio, l'ospedale di Gallarate di Busto Arsizio, l'ospedale di Sant'Anna e Valduce a Como. Il corso di laurea è organizzato in tre anni di studio per un totale di 180 CFU. In più la frequenza è obbligatoria al 75% per le lezioni. Tutti gli esami sono strutturati in corsi integrati, come potete notare dalla slide. Per esempio, il corso integrato di Scienze Biomediche prevede gli insegnamenti di Biochimica 1, Genetica Medica e Microbiologia Generale. Il tirocinio professionalizzante è un'attività svolta ogni anno nel corso di laurea. Sono 450 le ore di tirocinio al primo anno, 475 al secondo, 650 al terzo. Al termine del tirocinio è prevista una valutazione da parte del tutor che ha seguito il tirocinante durante il suo percorso. Il tirocinio è fondamentale per lo studente perché permette di inserirsi nel suo futuro ambiente lavorativo e di relazionarsi con i possibili futuri colleghi. Una volta ottenuta la laurea triennale in tecniche di laboratorio biomedico, ci si apre due strade. Questo titolo è infatti molto vantaggioso perché permette sia di lavorare subito dopo la triennale che di continuare gli studi con tantissime possibilità. Ciò che si può fare quindi è trovare lavoro. Questo diploma di laurea è infatti abilitante alla professione, in quanto, in concomitanza alla discussione della tesi, viene svolto anche l'esame di Stato. Questo permette quindi, previa iscrizione al nostro albo professionale, di poter partecipare ai concorsi verso le strutture ospedaliere ed extraospedaliere, di lavorare negli RCCS, negli istituti zooprofilattici, in tantissimi altri laboratori. Altrimenti si possono continuare gli studi. Il percorso naturale del nostro titolo è la laurea magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie e Tecnico-Diagnostiche, al fine di poter insegnare in università o tentare la strada della dirigenza nelle strutture sanitarie. Se no, si può continuare a studiare nell'ambito biomedico, con varie lauree magistrali in Biologie e Biotecnologie. Ad esempio, presso il nostro Ateneo, è attivata la magistrale in Biomedical Sciences, a cui possiamo accedere anche noi. Vi sono poi vari master di primo e di secondo livello, che permettono di sviluppare nuove competenze nell'ambito delle tecniche diagnostiche. Infine, una laurea magistrale apre le porte a un dottorato di ricerca, e quindi anche alla carriera accademica. Grazie per l'attenzione.